Spunta il sole in Capitanata e soprattutto sugli arenili di Zapponeta e della riviera sud del Golfo Sipontino e contemporaneamente sembra che la regione si interesserà alla vicenda degli agricoltori di Capitanata che si sono visti distruggere l'intero raccolto di patate, cipolle, cetrioli e carote già semi annientato dall'alluvione dello scorso mese di ottobre. Quello di Zapponeta è un territorio che basa il 90% della sua economia sull'agricoltura. L'assessore regionale Stefano ha effettuato un sopralluogo e domattina incontrerà il ministro Galan per portare alla sua attenzione proprio la disastrosa situazione della Capitanata e delle altre zone della Puglia. Stefano si è impegnato personalmente a risolvere poi il problema della carenza di infrastrutture a protezione della costa. Infatti finché non verranno realizzate strutture idonee come canali adiacenti e i terreni e i drovere di drenaggio in grado di convogliare verso il mare le acque piovane in esubero, gli arenili continueranno ad essere soggetti ad allagamenti. Noi abbiamo il dovere di mettere in evidenza questa criticità strutturale e di chiedere con forza l'ottenimento di risorse che da un lato ristorino queste popolazioni dei danni troppo forti subiti soprattutto negli ultimi tre anni, dall'altro che diano la possibilità agli enti preposti di avere le disponibilità necessarie alle opere strutturali che rimettano in assetto idrogeologico questo brano di territorio. Intanto l'assessore alle risorse del territorio del comune di Manfredonia Antonio Angelillis ha tempestivamente provveduto ad inoltrare richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità presso la regione Puglia, la provincia di Foggia e l'ispettorato provinciale all'agricoltura.